In Italia stiamo vivendo la peggiore siccità degli ultimi 30 anni e queste qui sono le aree dove la presenza di acqua è inferiore rispetto a quella degli ultimi 30 anni e se non facciamo qualcosa queste condizioni potrebbero essere la nostra nuova normalità. Ma quali sono i rischi e le minacce della siccità? E soprattutto, ci sarà acqua potabile per tutti? Tra i vari rischi c'è sicuramente la difficoltà di irrigazione dei campi, una produzione ridotta del cibo che mangiamo, la difficoltà di produzione di energia idroelettrica e gas e infine l'aumento di incendi boschivi. Per quanto riguarda l'acqua potabile ci sono alcune preoccupazioni ma dipende tantissimo dalla scarsa efficienza delle nostre reti idriche. Dal momento le peggiori criticità si vedono in Piemonte, nella Bergamasca e nell'Appennino Parmense. Nella zona del delta del Po l'acqua salata potrebbe risalire il fiume a causa della sua scarsa portata e causare dei problemi. Quello che noi possiamo fare è non sprecare né acqua né cibo.